Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere la mia destra, oggi sarà un video unboxing. Per la precisione vi presenterò il nuovissimo Vaskin Kingbook K100. È sottilissimo, super leggero, ma soprattutto dotato del nuovissimo Number Pad. Cos'è il Number Pad? È una nuova evoluzione del Pad, inventato e brevettato solo da Vaskin. Infatti è presente in questo computer, ma non nelle altre marche, che consente di inserire dei numeri e degli altri tasti all'interno del classico Pad e portatili, così da avere tantissime funzioni a portata di mano, che rende veramente molto più rapido e efficace l'utilizzo del computer senza il mouse. È questo qua, guardate che figata. Comunque dopo ve lo farò vedere in dettaglio. Tornando a noi, il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte faremo l'unboxing. Nella seconda parte invece sarà il test della potenza e della velocità, paragonandolo col mio attuale computer portatile dell'HP. Così vedremo la differenza di prestazioni e soprattutto chi vincerà tra questo Vaskin e il mio computer HP che attualmente utilizzo. Comunque detto questo, non perdiamo altro tempo e diamo il via all'unboxing. Guardate che bello. Tra l'altro questo modello è disponibile in due colorazioni, dark grey e pink version. Io ho optato per il colore rosa, visto che questo computer sarà il mio regalo per la festa della mamma. Estraiamo il nostro K100. Noto subito che è veramente molto leggero. Comunque dopo lo andremo a pesare direttamente sulla bilancia. Proseguiamo. Troviamo il nostro libretto di istruzioni del K100. Il trasformatore. L'estensione della garanzia di un anno addizionale. E questa comodissima webcam cover per prevenire la registrazione di immagini di certi virus che entrano nei computer e attivano la telecamera nostra insaputa. Sono veramente colpito da Vaskin perché questo kit di protezione privacy non viene quasi mai inserito nella dotazione base del computer. Per quanto riguarda la struttura è veramente molto sottile. So se si vede la telecamera. Guardate, è più sottile del mio dito. E ora vi mostro il pezzo da 90. Guardate. Lo vedete questo? È il number pad. In pratica hanno trasformato il normale pad in una microtastiera touchscreen contenendo tutti i numeri e tantissime altre funzioni. Portando un aumento notevolissimo della velocità di utilizzo del computer tramite il pad. E ora, prima di passare al test, vi elenco alcune delle caratteristiche tecniche. Montano Intel Celeron N4020, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria espandibile, 5000 mAh di batteria che permette l'utilizzo senza alimentazione fino a 10 ore, ricarica rapida completa in soli 3 ore, Bluetooth, monta il sistema operativo Windows 10, display con sistema di prevenzione a faticamento vista, frequenza di clock di 2,8 GHz, fotocamera in HD e microfono integrato con riduzione del rumore esterno. Ora andiamo a misurare il peso, metterò sulla bilancia il K100 e dopo andremo a fare il paragone con il portatile che attualmente utilizzo. Mettiamo subito sulla bilancia, vediamo. Non so se si vedrà la telecamera, ma questo K100 pesa solamente 1,377 kg. Ora è il turno del mio portatile, andiamo a vedere quanto pesa. 2,176 kg. È veramente un risultato impressionante, anche perché l'HP è un'ottima marca. Per cui la vasca ha fatto veramente un ottimo lavoro per quanto riguarda la riduzione del peso. Comunque, dato che vi ho messo i dati della bilancia, potete divertirvi a casa vostra, misurare il peso del vostro computer e paragonarlo con il K100 per vedere se è più pesante o più leggero rispetto a questo laptop della vasca. E ora siamo arrivati al momento test. Come vedete ho posizionato uno di fianco all'altro, il mio attuale portatile dell'HP e il nuovissimo vasca in K100. Andremo a fare due prove. La prima sfida sarà il test della velocità di accensione e la seconda prova invece sarà una sfida di velocità di elaborazione dei dati durante il video editing, in cui farò elaborare lo stesso video ai due computer e vedremo chi dei due sarà il processore più potente nel video editing. Partiamo subito col test dell'accensione. 3, 2, 1, via! E vediamo chi dei due la spunterà. Da rumore sento che sono partiti. è uscito il logo vasca nel K100 è uscito adesso invece il logo HP nel mio portatile stanno elaborando e caricando tutte e due è già arrivata la schermata del codice nel K100 qua invece sta ancora caricando incredibile, è già nell'home page di Windows il K100 cosa c'è impiegato? Tipo 7-8 secondi tra l'altro non ho accelerato questo video per cui è il tempo reale che ci impiega questo computer arrivare nell'home page di Windows ma la cosa bella è che se voi guardate questo video sul vostro cellulare potete stoppare questo video nell'istante in cui schiaccio il tasto di accensione del K100 e mettere il cellulare di fianco al vostro portatile schiaccerete play nel video così potete anche voi fare il paragone della velocità di accensione del vostro computer rispetto al K100 e scoprire se sarà più veloce il vostro portatile o questo nuovo Kingbook della Vasking e ora passiamo alla sfida di video editing come avete visto ho aperto Filmora sia nel K100 che nel mio HP ho selezionato il video di come guadagnare con Amazon Prime e Amazon Preview se non l'avete ancora visto vi ho lasciato la scheda qua in alto guardatelo perché è molto interessante perché spiego come ricevere prodotti gratis da Amazon dopo aver selezionato i video inserisco lo stesso titolo in entrambi gli elaborati e adesso lo vado ad inserire anche nel mio HP eccolo qua aggiungiamo anche la stessa canzone così abbiamo proprio due elaborati esattamente uguali e quindi sarà proprio indicativo la differenza di prestazioni perché il contenuto da elaborare sarà esattamente lo stesso e ora non ci rimane che dare il via alla sfida 3, 2, 1, via ecco qua sono già partiti come vedete il tempo rimanente indicato sul K100 è di un minuto e mezzo invece nel mio HP segna circa 20 minuti il K100 è già al 7% mentre il mio portatile è all'1% quindi anche per quanto riguarda la velocità e le performance di video editing questo Kingbook della Vasking è veramente molto prestazionale guardate il K100 ho già finito l'elaborazione del video mentre invece il mio HP è ancora al 23% mica male è stato messo in vendita a 429 dollari ossia poco più di 400 euro e se ci pensate bene con le qualità che ha le prestazioni il peso che è veramente leggerissimo come vi ho fatto vedere e soprattutto la presenza del nuovissimo e utilissimo Numberpad lo rendono a mio parere uno dei migliori computer come rapporto qualità prezzo attualmente presenti sul mercato spero che questa recensione vi sia stata utile se vi è piaciuto il video lasciate un like nel mio canale come potete vedere tratto principalmente due argomenti tecnologia, videotest e anteprime e social media come ottimizzare i propri social e come farli diventare una seconda fonte di guadagno se per caso sono argomenti di vostro interesse iscrivetevi al canale così sarete avvisati ad ogni mia pubblicazione prima di salutarvi però vi informo che nella descrizione di questo video che state guardando vi ho lasciato il link di questo bellissimo computer nel caso vorreste comprarlo o farvi un regalo i tre utilissimi canali telegram sconto H24 il primo di tecnologia dove vengono pubblicate offerte di cellulare tablet e computer e tecnologia in generale il secondo di Lego dove vengono pubblicate esclusivamente super offerte Lego e il terzo gruppo Beauty dove vengono pubblicate H24 le migliori offerte a tempo Amazon dei prodotti di benessere e cura del corpo creme, oli e prodotti di bellezza mi raccomando andateci a fare un salto tanto sono accesso libero per cui potete entrare e uscire quando vi pare ma soprattutto così sarete aggiornati a H24 delle migliori offerte Amazon oltre a questi tre utilissimi canali telegram del risparmio in descrizione vi ho lasciato anche il link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare i video siamo arrivati alla fine anche oggi non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento al mio prossimo video che per la precisione uscirà dopodomani ciao ciao